I giovani di tutto il mondo possono offrire a Cracovia un nuovo segno di armonia a questa terra con un mosaico di volti e culture diverse, ma tutti uniti nel nome di Gesù, che è il volto della misericordia. Papa Francesco lo dice in un videomessaggio indirizzato alla Polonia, ad una settimana dall'inizio della Giornata Mondiale della Gioventù, nell'anno del Giubileo della Misericordia e nella memoria di San Giovanni Polo II, artefice delle GMG e guida del popolo polacco nel suo recente cammino storico verso la libertà. Cari giovani di ogni parte d'Europa, Africa, America, Asia e Oceania, benedico anche i vostri paesi, i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia, perché siano un pellegrinaggio di fede e di fraternità. Il Signore Gesù vi conceda la grazia di sperimentare in voi stessi questa Sua parola. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ho un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti nel nome di Gesù, che è il volto della misericordia. Il Papa abbraccia i giovani che si stanno preparando al grande incontro di Cracovia e poi si rivolge alla Polonia, affermando che è un grande dono visitarla, perché siete un popolo che nella sua storia ha attraversato tante prove, alcune molto dure, ed è andato avanti con la forza della fede, sostenuto dalla mano materna della Vergine Maria. La salute morale e spirituale di una nazione si vede dalle sue famiglie, conclude Papa Francesco. Per questo San Giovanni Paolo II aveva tanto a cuore i fidanzati, i giovani sposi e le famiglie. Continuate su questa strada.